Troppo presto per la grazia. Il no a Giulia Timoshenko, l'ex premier ucraina ora in carcere, è giunto dalla commissione che valuta le richieste di grazia presidenziale. La Timoshenko, principale rivale politica del presidente Yanukovic, è stata condannata a nove anni in un processo che in Occidente viene considerato politico e rappresenta un ostacolo agli accordi di libero scambio con Europa.